Sono state rispettate le attese turistiche in riviera per questo weekend di Pasqua. In provincia d'Imperia sono infatti giunti tantissimi turisti che, nonostante il tempo altalenante, hanno potuto godere sia delle località della costa sia di quelle dell'entroterra. Come era stato annunciato dagli operatori del settore, sono stati soprattutto gli stranieri che hanno scelto l'estremo opponente ligure per questa occasione. Si è trattato di tedeschi, austriaci e di altri paesi del nord Europa. Non sono comunque mancati anche gli italiani, provenienti soprattutto da Piemonte e Lombardia, che da sempre sono i principali bacini di riferimento per quel che riguarda il turismo interno. Pienone negli alberghi e nei ristoranti, che hanno così anche potuto tirare una boccata d'ossigeno e che iniziano a vedere una certa ripresa. In seguito alla delicata situazione internazionale, l'Italia sta infatti tornando ad essere tra le mete più ricercate. A testimoniarlo sono anche i recenti dati registrati in Liguria, con un incremento sia degli arrivi sia delle presenze, con il periodo di permanenza che si è leggermente allungato rispetto al tradizionale mordi e fuggi che ha caratterizzato le vacanze degli ultimi anni.